Pronto mamma? Uè ciao, a te le 600 euro ti sono arrivate? Servizio momentaneamente non disponibile La salute pubblica, nessuno deve sentirsi abbandonato è stato questo il nostro obiettivo sin dall'inizio e oggi questa deliberazione, questa proposta Ma chi l'ha fatto sto video? Chi l'ha fatto? La concreta testimonianza della presenza dello Stato Un corpo, due nomi